Ciao, oggi vi recensisco in modo schietto e sincero questa smartwatch, Garmin Istint Solar. Premetto che a me non mi paga nessuno per fare questo tipo di recensioni, mi compro alcuni prodotti per utilità mia, li uso e poi se trovi il tempo li recensisco con cognizione di fatto, anche perchè a me piace fare documentari, live action, thriller, cantare, eccetera, e non tanto recensire prodotti. Allora, ho un Garmin Istint Solar, smartwatch abbastanza resistente, con alcune funzioni interessanti, ma con tante pecche a mio avviso e molto sopravvalutato in generale. Vi spiego perchè. Non indovina mai la temperatura. Di solito in questo quadrante dove io adesso ho inserito le pulsazioni del cuore, si può inserire anche la temperatura, ma segna sempre 39, 23, 43, quando invece in questo periodo ci sono 10-15 gradi, quindi assolutamente questa è la funzione peggiore di questo orologio. Diciamo che il barometro dovrebbe essere d'aiuto a segnalare le tempeste, perchè questo qua è uno smartwatch per escursionismo, trekking e attività sportive, outdoor in genere, ma in realtà purtroppo il barometro parte quando la pioggia è leggera, o comunque c'è molta nuvolosità, segna la tempesta, ma in realtà si può verificare che c'è anche una pioggia leggera. Diciamo che non è un dramma, perchè comunque la sua funzione la svolge, ma non la svolge in modo abbastanza preciso e abbastanza concreto. I battiti del cuore sono quasi affidabili perchè sono un po' più bassi o un po' più alti del normale, ma come tanti smartwatch. Non è touch, e questo è un limite sicuramente, perchè a mio avviso mi trovo molto meglio con il touch che non con tutti questi tasti che c'è da ricordarsi quale schiacciare, quante volte schiacciarlo per le varie funzioni. Vedete? Non va. Bisogna sempre per qualsiasi cosa schiacciare col touch. c'è un'intensità solare, questa devo dire che è abbastanza precisa, una retroilluminazione che all'incirca funziona. Poi cosa abbiamo? Il saturimetro, questo è quasi preciso secondo me, ogni tanto va un po' più giù di quella che è la verità, però in linea di massima il saturimetro è abbastanza preciso. Ma vi voglio parlare della batteria. La batteria era osannata di questo smartwatch quando invece purtroppo la verità è che se vi segna 14 giorni in ricarica completa e senza risparmio della batteria, senza ovviamente l'utilizzo del GPS perchè con quello non arriviamo a circa neanche 24 ore, anche se ne sono dichiarate 30, ne fa qualcuno in meno. Purtroppo in realtà quei 14 giorni diventano 7, quindi di media i giorni che vi segnerà in realtà di batteria li scalerà a due giorni la volta, più che uno, nel calcolo del tempo. non ho capito perchè visto che ne faccio un uso moderato. Con la ricarica solare migliora, ma parte in automatica all'incirca quando siamo sotto i 6 giorni e sembra che in mezz'ora o un'ora ricarichi un giorno, ma in realtà con la ricarica solare dopo circa 3-4 ore il giorno è già finito che ci ha dato. Quindi in realtà non è affatto vero che con 30-60 minuti ricarichi un giorno di sole, ricarichi un giorno intero, ma ricarica sia no 3-4 ore extra. Non arriverà mai 54 giorni neanche in risparmio energetico, ne arriverà sia no a 30. Non rileva automaticamente gli sport e per me questo è un limite molto grosso perchè io pratico 3-4 sport, faccio fitness, faccio escursionismo, faccio trekking, faccio arti marziali e non li rilevo automaticamente, devo stare lì a segnare io sull'applicazione ed è veramente noioso. E fra l'altro non conviene farlo perchè si perde tempo. L'intensità invece non è precisa, sempre riferita agli sport, all'attività fisica che si fa, ti segna l'intensità ma in realtà ne segna la metà di quello che fai perchè se io do dei calci e dei pugni su un sacco il fatto che non mi segna l'intensità mi pare strano. Invece cosa assurda, se faccio sesso mi segna l'intensità come se avessi fatto uno sport, un'attività fisica. Quindi è abbastanza altalenante e direi affidabile al 50-60% ma non totalmente. Invece devo dire che segna bene i passi, li segna più o meno correttamente, anche se non li segna nell'imminente li segnerà dopo anche se qualcuno lo salta, qualcuno poi lo segna in più dopo, quindi in linea di massima poi si rallinea con quella che può essere la verità. Le calorie non comprendo se le segna giusto o meno, ci vorrebbe un dottore, però suppongo che siano abbastanza affidabili perchè sono funzioni un po' più semplici da sviluppare. Al betramonto non ci si può lamentare perchè li segna correttamente, del GPS invece si. c'è da lamentarsi perchè oltre che ha solo 2-3 GPS e non 5 come gli altri smartwatch, lasciando stare questo perchè potrebbe essere più preciso, invece mi sa proprio di no perchè molte volte in campagna su terreno libero mi segna che il GPS potrebbe funzionarmi meglio se non ci fossero alberi, ma gli alberi in realtà non ci sono, è perchè è lui che non prende perfettamente il segnale oltre che per recuperare il segnale ci impiega davvero molto tempo. Il watch S1 di Xiaomi, di mio fratello, è molto meglio con 5 GPS se prende prima il segnale è uguale alla Amazfit T-rex 2. Cos'altro c'è da dire di questo orologio che ha pochi quadranti di quali poter scegliere, però sono personalizzabili ma non mi piacciono, la grafica è davvero molto minima rispetto ad altri. Le notifiche invece non si può lamentare perchè arrivano correttamente. Io direi che ci sono, non so quante, 50-60 funzioni. Le figure di fitness sono molto interessanti perchè fa delle belle figure e quindi il lato fitness può essere utile per trovare spunto per i propri allenamenti ed è molto interessante. La funzione trackback funziona e non funziona perchè perde spesso il segnale GPS quindi non mi affiderei solo a questo per ritrovare una strada in un bosco per esempio. Ha sì il caricamento delle mappe ma secondo me con due limiti perchè poi in realtà dove le andiamo a scaricare spesso sono a pagamento tranne una, quindi il display fra l'altro è pure piccolo, secondo me è meglio avere un'app su uno smartphone che non utilizzare questo orologio perchè di grafica non è, vi ripeto, assolutamente il massimo, come vedete non è niente di speciale. In conclusione ci si aspetta di più con una spesa di 200€ in quanto la metà delle funzioni in possesso di questo smartwatch sono secondo me a mio avviso quasi inutilizzabili perchè non sono affatto precise. Ne utilizzerò e ne utilizzo da due mesi a questa parte soltanto la metà di proposto perchè le altre non le ritengo affidabili anche se ci sono lì in automatico da considerare senza risparmio energetico non vado a guardarle più di tanto perchè so già in partenza che non sono affidabili se vi interessa è buona la fase lunare, abbastanza veritiera la parità di spese secondo me esiste di meglio come l'Amazfit T-Rex 2 o qualche orologio dell'assunto e la Baro io sono stato un pollo perchè ho guardato le recensioni altrui sembrava che la Garmin in generale fosse la migliore che anche la gamma instinct forse è ben riuscito invece questo Garmin instinct, assolutamente la gamma instinct di Garmin non la consiglio perchè sinceramente mio fratello che è il Watch S1 di Xiaomi ha una ricezione GPS migliore, ha una risposta alle chiamate vetro in zaffiro, design più di lusso, ha sicuramente di meglio e ha speso 70€ in meno è vero che questo è particolare perchè ha delle cose che non tutti gli smartwatch hanno quindi sono dell'opinione che se dovete spendere 200€ per un orologio così che fra l'altro si ha una bussola ma credo che uno smartphone stesso possa darvi in un modo o nell'altro circa le stesse funzioni senza spendere soldi o comunque altri smartwatch possano darvi simili funzioni e spendere di meno a pari resa, a pari spesa scusate avere migliore resa con altri tipi di smartwatch e non questo se dovessi dare un voto finale sinceramente do un 5 su 10 proprio per via di tutte le motivazioni che vi ho elencato è abbastanza deludente, giusto si fanno salve si la metà delle funzioni che vi ho descritto ma il vento è assolutamente falsato fra l'altro come tante altre funzioni sinceramente mi aspettavo di più visto che le recensioni dicevano ah questo orologio così, questo orologio colì è il migliore, ha queste funzioni, niente di assolutamente vero vi consiglio di parare a qualche altro brand che sia Sunto, Polar, Xiaomi o altri brand ma non a Garmin sinceramente visto i risultati che sto avendo io e visto con 200 euro scontato quello che ho ottenuto ho avendo io Ciao